Nessuno fa niente! Hai un vlog? Certo! Ciao Pietro! Bravo! Siete un po' spoccati ecco, ora siete da poco! L'ultimo video? Certo! Bella per tutti, sono un rapper famosissimo, super e basso, tour! Ecco ora siete a fuoco, ho problemi col fuoco! So guys, we are in Aten, I think they will not... Stai filmando? Sentire! Stai facendo il video? Stai facendo il video? Sei fra! Sei fra! Siamo già in mood video! Dopo vengo a comprare le mie scarpe qua, ho deciso! Non l'ho visto fra, eh! Ti prendono molto meno qua, raga! Sì, sì! La vita, sti! La vita, sti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti